Sino, ora, sangza, morta. Sino, ora, sangza, morta. Sino, ora, sangza, morta. Vida con dolores, vida con dolores. Vida con dolores. Sino, ora, sangza, morta. Sino, ora, sangza, morta. Sino, ora, sangza, morta. Il mio servizio, il mio servizio, il mio servizio. Ok, direi che io ho bisogno di urgenti perché il nostro compagno è avuto il nostro compagno. Sì, sorry, sorry. E tu, Mr. Palanog? Sì, sì. Perché il nostro prodotto di produzione di carrile? Il nostro francese è avuto il nostro francese. Sì, sono davvero davvero, ma davvero manpowermenti. Ok, non ho bisogno di vostro, sorry. Just go do vostro lavoro e produzione carrile! Sì, sono davvero davvero, non ho avuto il mio servizio. Ok! Sì, sono davvero davvero. Sì, sì, sì. Ma beat'em, nagà sullenare il nostro prodotto di produzione? Come, l'ho avuto il nostro prodotto di produzione? Sì, sì. Sì, zi square, nello. Ok, l'ho do qui, to me. Il nostro prodotto di produzione di carrile nei ho però l'inolubi il nostro compagno. Oh, sì. Sì, sì. Sir, I know you know the reason come before l'inolubi il nostro meeting. L'applico della misura sullante di carrile. Con l'inolubi il nostro prodotto. C'è quello che abbiamo fatto con i nostri amici? Sorry, Sir Garcia, ma abbiamo bisogno di dare un'investimento. È super. C'è quello che abbiamo fatto. C'è cosa possiamo fare per migliorare la situazione del company? Sir, io prendo tutti i responsabili per migliorare la stagione del company. E io lo notifico, se dovessi. Ok. Grazie, Sir. Sì, non c'è? E questo? C'è cosa che? C'è cosa che ci sanno? C'è cosa ci sanno? C'è cosa ci sta, ma? C'è cosa ci sono? Non c'è quanto ci sono? Un'altra cosa. C'è cosa ci sono. Perché ci sono che ne so? Eccociate. C'è cosa ci sono. C'è cosa ci stagione? Esensi no, Sir, non mi ricordi. E perché non ti non mi uniforme? C'è stato fatto prima. E' stato un uniforme. Esensi no, non mi ricordi. Esensi no, non mi ricordi. Se non mi ricordi, non mi ricordi, non mi ricordi. Esensi no, Sir. Hi, buongiorno. Ma, cosa faccio per te? Um, magnatatunan sana ako dun sa pag-a-franchise. Paano siya? At saan? Um, eto po. Pakisiguto na lang. Sige, thank you. Eto na po. Thank you po. Tawagin na lang po namin kayo. Okay, thank you. Thank you. Panang! 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 Panod naman kami. Grabe naman kayo. Ate lang. E ganun ba? Magkaino? 500. Dito 500 kami. Eto oh. E salamat. Uy, nakuha mo na ba load mo? Oo, nakuha ko. Kulang ko lang nga eh. Sabi ko 500, 400 lang yung laman nitong kart na to. Ay, pambihira. Mas grabe pa pala sakin. Yung 500 naging 50. Nawalan ng isang zero. Mga tao talaga ngayon. Maniloko. Panang! Pambihira. Kulang-kulang naman. Kulang naman yung kart na to. Akin rin eh. Anong manangan naman? Diba sabi ko ate? Ay, 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 ay! Saan mo naman ay pangalan mo dahil? Tinockish mo kami. Bakit? Ano nangyari? 500 ang usapan natin. 400 naman lang yan. Oo, 500 naman to. Diba? Gisto sa akin? 500 nabawasan na zero. Naging 50. Oh. Eh, hindi ko na po na kasalanan. Bakit? Parang binayad namin. I-refund nyo ba? I-refund namin, siyempre. Hindi maaari. Kakafranchise ko na ng business na to. Eh, paano naman kami yung mga customer mo? Naku. Ah, naloko ko ng mga kumpanyang yan ah. Yes. Naku. Eh, ito walang ganyari niyan. Balik mo yung pera namin. Kailangan namin yan. Wala po akong magagawa. Ang magagawa ko lang po, babalik po ako dun sa kumpanya at kakausapin ko sila. Ah, mapakisulad din ang number nyo at natuwagan ko kayo para may bagay ko yung pera nyo at may balik. Sige. Okay. Okay. Ah, hello? Ah, sige po. Pumunta na lang po kayo dito sa office namin para po sabihin nyo po yung reklamo mo po dito. Sige po. Salamat po. Ano po yung magre-reklamo dun sa main loading station? Dun sa 500 load? Um, supposed to be po kasi nagpa-load kami ng 500. per 100 lang ilaman sa akin. Ako. Tapos yung sa akin naman po, magpa-load rin po ako ng 500 pero 50 pesos lang yung dumating sa akin. Ah, ako po. So sige po, sasabihin ko na lang po sa... sasabihin ko na lang po sa CEO namin yung nangyari and then tatawagin na lang po namin kayo para po maayos po. Sige po. Hindi po. Huwag niyo muna akong tingnan ngayon bilang boss nyo. Magiging pantay-pantay tayo ngayon sa araw na to. Bibigyan ko kayo ng, I give your freedom to tell me yung mga hinanakit nyo regarding sa ating company or sa relation ko sa inyo. I will accept them wholeheartedly. Anyone? Sir, kasi we think that you should control your emotions kasi minsan ako-offend na lang kami so minsan di na rin namin alam pong anong gagawin namin. Kaya ayun po, sana po kinokontrol ninyo yung emotions ninyo para yun nga lahat nga kami pantay-pantay sa tingin ninyo. Sige po. Sir. Huwag lang po kayo masyadong mainitin yung ulo. Kinakabahan po kasi sa mga ginagawa, pinapagawa nyo eh. Huwag lang po. Okay, thank you sa mga nagsalita. I'm so sorry kung nakagawa ko ng fault sa inyo kasi yung situation medyo at risk na kasi yung company natin. And don't worry guys, I promise you that the next time I will be a better boss to you and a good looking one. Good evening ladies and gentlemen. This will be a good day for all of us because I have a good news for everyone. Our company has reached its the peak of its sales and production and as a result of this and as a thanksgiving for everyone I will grant you your bonuses for 15 month pay. Thank God. That's exactly what I wanted. And maybe this is the result of our prayer and heart works and I know you guys all do so. Exactly. Of course, of course. Hallelujah. Sorry Mr. Garcia, nainiwan po namin kung panya nyo. Pero ngayon gumaganda na ang sales na kung panya nyo. babalik ibabalik na namin ang aming mga investment sa kumpanya. Good evening sir. I know if I am in your place I will do the same thing but it's okay sir and welcome back to our company. Okay, thank you. Sorry! 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 I don't know I was missed Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sir, I know you know the reason kung bakit ako nag-call ng meeting ngayon bumababa na ko yung sales ng company bumababa na yung sales ng company ito pong ginagawa ng mga tao natin sorry sir go 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 go